ok seconda e gas puntato metti in moto prima ok pesa avanti avanti il peso dai ecco brava dai dai decisa dai ok ferma anche prima ormai se riesci con colpa di gas a mettere la ruota sopra avanti il peso più avanti brava vai sediti sediti gas che l'ho puntato dai 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 vai vai devi far saltare capito come se volessi impennare dai aspetta dai alpina forza forza dai metti in moto su adesso gradino metti in moto ti porto su dai su dai dai gas ora siediti e la vai e la fai seduta su mi riposo andando come si certo bravo penso un po in avanti è ma basta di là da sapere us us us